Eccoci, buongiorno a tutti cari psinellini, cari psinelline, benvenuti o bentornati alla nostra live del giovedì mattina. Oggi live 203, quindi 203 live ragazzi e ragazze, meraviglioso. Eccoci qui, oggi leggermente in anteprima, non so vi sembrerà strano se mi seguite da un po' di tempo, ma oggi insomma ho bisogno di iniziare prima, anche per terminare un po' prima. E quindi ho deciso di iniziare un po' prima, nel frattempo so che le persone arriveranno con calma. Il tema di oggi è fondamentale, il tema dedicato, un tema a cui noi abbiamo dedicato tante puntate, non solo in questo periodo in cui c'è l'AIP per l'intelligenza artificiale, ma in generale abbiamo dedicato molte puntate perché è inutile nascondersi dietro un dito questa situazione, questa rivoluzione dell'intelligenza artificiale è una rivoluzione. E ne sentiremo parlare a lungo e la psicologia c'entra tantissimo. Non è che la psicologia... questa non è una puntata tipo dai mettiamo un pizzico di psicologia nell'intelligenza artificiale. Ovviamente quando parliamo di psicologia e intelligenza artificiale ci riferiamo a una miriade di cose, ma perché ti sto dicendo che la psicologia c'entra parecchio. Intanto nel frattempo sai che questa è un po' la preparazione, dunque il backstage, quindi perdonami se sentirei dei rumori tipo mentre mi soffio il naso. Perché è così importante? O meglio, che cosa c'entra l'intelligenza artificiale con la psicologia? Oltre a tutti i collegamenti che possiamo fare, immaginare, intelligenza, si parla di intelligenza e dunque ovviamente gli esperti dell'intelligenza dovrebbero essere i miei colleghi, ma non è solo questo. Non tutti sanno che l'evoluzione dell'intelligenza artificiale, la vera evoluzione dell'intelligenza artificiale, avviene proprio quando i miei colleghi entrano in questo ambito. O meglio, quando vi è un incontro tra informatici e psicologi, prima ancora che quelli che oggi potremmo definire neuroscienziati. Perché gli psicologi avevano già formulato l'idea della costruzione di reti neurali decenni fa, ma decenni e decenni fa, adesso non vorrei esagerare, ma credo che già negli anni 70 si parlasse di reti neurali, così come ne intendiamo oggi, solo che la potenza di calcolo per riuscire a riprodurre un neurone sul computer, quindi cercare di ricostruire un neurone digitale sul computer, magari adesso ne parleremo un po' più approfonditamente, era impensabile. Dunque, se tu 30, 40, 50 anni fa costruivi reti neurali su carta e poi cercavi di metterli in un computer, di certo non potevi parlare di intelligenza, perché ciò che stavi facendo non era altro che modellizzare un neurone su un computer, ma la potenza di calcolo era talmente scarsa che non si capiva ancora il potenziale, anche se questo potenziale era previsto, perché l'idea del poter creare un meccanismo che riuscisse in un qualche modo ad autoregolarsi attraverso dei pesi, attraverso dei sistemi, un po' come fa il neurone, ma il neurone non fa così, però simile al neurone, è stata un'idea rivoluzionaria. Prima l'idea e le idee erano del tipo top down, noi diamo delle informazioni ad una macchina, dall'alto ti spiego, non so, facciamo l'esempio classico degli scacchi, ti metto in memoria migliaia di puntate, migliaia di partite scacchistiche fatte dai più grandi, tu impari quelle mosse e le riproduci. E quindi è dall'alto, ti insegno qualcosa dall'alto e tu non fai altro che riprodurre migliaia di quegli schemi, miliardi di quegli schemi. Ma poi nel tempo ci si è chiesti ma è possibile, la macchina potrebbe imparare dal basso, cioè io ti mostro delle partite di scacchi senza spiegarti come funzionano, senza darti le regole dall'alto, riesce la macchina a ricostruire le regole degli scacchi e la risposta è stata sì. La macchina guardando delle partite di scacchi senza sapere le regole degli scacchi, le regole immaginatele come le mappe top down, imparano dal basso bottom up, scusate se uso questi termini ma sono i più tecnici e precisi che ci aiutano anche a capire le differenze, questa bottom up notarono all'inizio che era difficilissimo insegnare in questo modo perché serviva una potenza di calcolo incredibile rispetto al dargli le regolette dall'alto, ma notarono che le macchine imparavano con una potenza e con una velocità e con un'efficacia decisamente maggiore rispetto al top down. cioè la macchina impara più facilmente dall'esperienza da sola dandogli ovviamente un training, un allenamento che non dall'alto. Questo è un po' ciò che è capitato e che capita nelle case di tutto il mondo ormai attraverso ChatGPT che è questa intelligenza generativa linguistica che riesce a prevedere le parole che stiamo per dire dandoci un po' l'illusione di comprendere perfettamente il linguaggio. Se non l'avete mai fatto andate su OpenAI, fatevi un giro lì sopra perché parlarne non rende davvero l'idea. Ne abbiamo già visto nella precedente puntata, infatti questa si chiama Intelligenza Artificiale 2, ma andate a dare un'occhiata a ChatGPT perché è realmente impressionante. Il fatto che se ne parli così tanto non è semplicemente una moda perché è impressionante come riesca a fare in modo non perfetto, non precisissimo, eccetera, ma dei lavori incredibili che fino a qualche mese fa credevamo fossero possibili solo da una mente creativa. Provate ad andare lì sopra e ditegli, non lo so, scrivimi una storia con protagonista, uno psicologo che parla in un podcast che, anzi, facciamolo insieme, visto che siamo qua in versione solo audio. Andiamo su OpenAI perché non ci avevo pensato. Non ci avevo pensato. Vediamo se mi fai usare mi fai usare ChatGPT anche se non mi loggo. Vediamo un po'. OpenAI Vediamo un po'. Ah, ok, ok, mi fa entrare. Allora, proviamo insieme. Vediamo un po'. Sentirete battere un po'. Ah, no, vabbè, lo metto sulle gambe così non succede. Guarda, scrivimi, scrivimi, no, anzi, facciamo così. Parlami dei collegamenti tra intelligenza artificiale e psicologia. Vediamo cosa ci dice. I collegamenti tra intelligenza artificiale e la psicologia sono sempre più rilevanti e stanno guadagnando sempre più attenzione da parte degli esperti di entrambi i campi. L'intelligenza artificiale è la disciplina che mira a creare sistemi e macchine in grado di svolgere attività che richiedono intelligenza umana. D'altra parte, la psicologia studia il comportamento umano, i processi mentali e le interazioni sociali. Queste due aree di studio si intersecano in vari modi. Due punti e mi fa un elenco puntato, incredibile. Continuo a leggertelo. Primo, modelli cognitivi. L'intelligenza artificiale utilizza modelli cognitivi ispirati al funzionamento del cervello umano per creare algoritmi e reti neurali artificiali che è ciò che ti ho detto nell'introduzione. Gli psicologi studiano i processi cognitivi umani come la percezione, l'apprendimento, la memoria e il ragionamento e questi studi possono fornire input preziosi per la progettazione di modelli di intelligenza artificiale più sofisticati e adattabili. Secondo, interazione uomo-macchina. L'intelligenza artificiale è sempre più coinvolta nella creazione di sistemi che interagiscono con gli esseri umani come i chatbot, assistenti vocali, agenti virtuali. La psicologia può contribuire a migliorare l'esperienza utente e a rendere tali interazioni più naturali e gratificanti studiando aspetti come l'empatia, la comprensione delle emozioni umane e la progettazione di interfacce intuitive. Terzo, psicologia dei dati. L'intelligenza artificiale è fondamentale per la... Continuo? Ragazzi, è andato avanti fino a darmi cinque punti. Magari dopo ve li leggo tutti ma è super affascinante questa cosa. E sappiate che volevo fare tutt'altro ma va bene così. Volevo chiedergli tutt'altro ma va benissimo così. Intanto andiamo a vedere come prosegue e voglio ricordarti innanzitutto se sei qui che fino a questa sera è in offerta il nostro nuovo corso Brain Restart ma se mi segui lo sai molto bene per cui vai a dare un'occhiata nel link in bio di Instagram oppure vai su psinel.com corsi Brain Restart un corso incredibile per il benessere mentale è la prestazione fatta insieme al dottor Valerio Rosso 30 video che per 30 giorni ti accompagnano all'interno del miglioramento personale del benessere personale e questa volta ho portato davvero un numero uno a parlarci di queste cose perché il dottor Valerio Rosso oltre a essere medico psichiatra psicoterapeuta è una persona ingambissima è un grande comunicatore andate a vedere i suoi video ed è anche una super persona che applica con coerenza ciò che racconta quindi Brain Restart fino a questa sera avete lo sconto il nostro il nostro sconto di lancio eccoci ho fatto l'ennesimo marcheton andiamo dritti a vedere se c'è qualcuno in live c'è un commento buongiorno Monica sei la prima complimenti Monica Rizzi sei la prima quindi dico anche nome e cognome cara Monica detto che sei qui allora controlliamo un po' di cose per vedere quindi ho detto che iniziavo prima e ce la possiamo anche fare iniziare prima secondo me anche su YouTube intanto sto vedendo che il nostro corso ragazzi sta andando benissimo io voglio ringraziarvi perché avete compreso l'importanza di questo corso quindi sono super super contento allora vediamo un po' molto bene mi soffio il naso perché sono raffreddato più che altro un po' allergico in questo periodo ma va benissimo ma più che bene l'acqua la materia prima della vita è qui insieme a noi e dunque direi 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 di iniziare con un bel chat GPT che abbiamo qua aperto poi in caso dopo veniamo a leggerci peccato vero che da qua poi non posso coglierlo comunque abbiamo un sacco di cose di cui parlare di cui non abbiamo ancora neanche lontanamente accennato e tra poco le vediamo insieme all'interno della nostra live allora ah molto interessante il mio amato MMA dopo me lo vado a guardare e non sto parlando del nostro master in meditazione ma sto parlando proprio dello sport MMA mi piace lo sport da combattimento allora so che è una cosa benissimo abbiamo già visto un primo commento su youtube Fabrizio che ci scrive flessibile quindi significa accettare le bastonate dalla vita e farsi non ha ragione significa imparare a capire i commenti significa guardare no sapete queste persone cosa facciamo le bagniamo dal canale le facciamo prima perché come fai a rispondere a una persona così questo è usato per altri gente è esatto brava bravissima dai ci dà una risposta bellissima c'è un sacco di gente fantastica che mette commenti intelligenti non solo non solo commenti pro ma anche commenti pro contro cioè prima di andare su youtube come si fa a commentare correttamente qualcosa anche quando non siamo d'accordo quando non siamo d'accordo con qualcosa beh se è una castroneria possiamo anche divertirci a rompere le scatole ma se non è una castroneria andiamo magari a raccontare le nostre argomentazioni portando dei dati a nostro vantaggio il dato potrebbe anche solo essere la tua esperienza non è che mi devi portare 15 paper scientifici tuttavia se io ti porto 15 paper scientifici tu almeno un paper scientifico dovresti portarlo però al di là di questo anche la tua esperienza la cosa importante è non denigrare la ricerca e questo è il problema di questo tempo non possiamo tu non puoi dirmi ah ma questa cosa qua è una stronzata eh ma io ti ho appena detto che ci sono 15 ricche cerche scientifiche fatto nell'arco dei 30 anni come fai a dirlo così però purtroppo siamo in questo tempo dove ognuno può alzare la mano e dire secondo me è una stronzata ecco scusate ma questa cosa qua proprio è incredibile ogni giorno arrivano commenti così eh non è che arrivano ogni tanto tutti i giorni quindi mettetevi nei miei panni empatizzate compassionevolmente con me perché ogni giorno devo leggere commenti di persone che si alzano e dicono ah secondo me questa cosa è una cavolata come fai a dire tu e l'altro giorno un tizio un ragazzo che avrà avuto 15 anni mi ha detto ma tu come fai a dire queste cose ma chi te le ha dette ho studiato per 10 anni all'università e chi me le ha dette e lo so ragazzi ma funziona funziona così vabbè smetto di lamentarmi e andiamo nella parte usciamo dal nostro backstage di psine questo qua privato il nostro meraviglioso podcast e anzi tra l'altro stiamo per raggiungere i 7 milioni di download e grazie grazie davvero a tutti gli psinellini che ci ascoltano e ci seguono dal podcast anzi se sei qui e mi segui da tanto su spotify ti invito a mettere un bel like perché questo su spotify puoi votare il podcast in altro con le stelline e questo ci aiuta tantissimo bene ora che credo di averti detto più o meno tutto direi che possiamo andare live su youtube ah è fatto un po' così oggi devo aggiustare la webcam in modo che sia un po' più in giù così ammazza che faccia sveglia che ho ragazzi mamma mia che faccia madonna che faccia me l'aveva già detto ieri il dottor rosso mi fa gennaro ti vedo un po' stanco sì effettivamente sto lavorando tanto e quindi sono un po' stanco in questi giorni buongiorno a tutti buongiorno a tutti ecco forse dovevo togliermi la maglietta della salute qua sotto ma cerchiamo di nasconderla buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra live vediamo un po' se benvenuti e benvenute chiunque ci sia da questa parte cerchiamo di di regolare al meglio la luce buongiorno Luca ciao Luca come sta come 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 è l'audio come il video come si vede raccontaci così almeno ci dai un feedback molto bene ragazzi molto molto bene allora vediamo un po' oggi parliamo di una tematica davvero super interessante iniziamo subito siamo un po' leggermente in anticipo perché oggi dobbiamo anche finire in anticipo audio top video anche grazie Luca mi sto accorgendo che non ho anche i miei occhiali molto bene in caso a un certo punto sono anziano e quindi a un certo punto magari ho bisogno dei miei occhiali e oggi parliamo di intelligenza artificiale innanzitutto perché è uscita da poco una notizia molto interessante buongiorno Enza una notizia molto interessante legata all'intelligenza artificiale ma legata a ciò di cui noi parliamo praticamente da sempre su Psynel una delle prime cose che vi ho raccontato a partire più o meno dal 2008 il 2009 erano degli studi super interessanti mi stavo occupando in quel periodo di cercare di capire come riuscissero i musicisti ad andare a tempo qualcuno di voi magari della vecchissima guardia si ricorderà io sono un musicista e quindi conoscendo la fisiologia la neurofisiologia mi stavo chiedendo come fosse possibile per un cervello riuscire andare al beat al click come si dice perché effettivamente immaginate se noi immaginiamo il nostro corpo come se fosse una specie di macchinario potremmo immaginare che quando tu sei lì che stai suonando uno strumento come la batteria la chitarra o semplicemente stai schioccando le dita o battendo le mani tu ogni volta che schiocchi le dita devi dare un segnale che da la corteccia motoria tra virgolette si dipana verso le tue mani fino a ottenere questo schiocco e questo è del tutto naturale ma come è possibile che si riesca ad adattarsi a tempo e allora studiando queste cose iniziai ad approfondire il tema di quella che veniva chiamata la mente predittiva dovete sapere che non è un tema che io ho studiato all'università quando ho studiato all'università non si parlava del fatto che il nostro cervello fosse una macchina predittiva c'erano delle ipotesi e delle teorie costruttiviste ma non eravamo così certi di come funzionasse il nostro cervello e dunque studiando approfondendo questo tema della musica arrivai a trovare a scoprire questa idea della predittività ora tu mi direi cosa c'entra questo con la musica beh c'entra perché in realtà non è che io immediatamente riesco a far arrivare il neurone tra virgolette a tempo per coprire il beat cioè per andare a tempo ma io prevedo ciò che sta per accadere la mia mente è un predittore che continua a prevedere ciò che sta per accadere spesso nella maggior parte dei casi riesce a prevedere bene ciò che accade nella maggior parte in alcuni casi la prevede male e questa faccenda questa faccenda della mente predittiva è ciò che ci ha anche traghettati alla comprensione un po' di come ci sta stupendo in questi giorni chat GPT e non solo di come la nostra mente possa addirittura secondo un recentissimo studio essere letta dall'esterno dovete sapere e probabilmente lo sapete perché anche molti influencer ne parlano in questi giorni ma hanno fatto un esperimento molto particolare hanno collegato chat GPT ad una risonanza magnetica e all'interno della risonanza magnetica praticamente si riuscivano a prevedere dei pattern di tipo linguistico dando degli stimoli dall'esterno tipo dicendo alla persona nella risonanza magnetica casa e cercando di prevedere quali sarebbero state le parole pensate o i pensieri diciamo così i concetti per essere più precisi nella testa di questa persona e le hanno e chat GPT sembra essere molto brava a prevedere questa cosa ora come mai ritorniamo un po' nell'introduzione che ho fatto nella puntata del podcast come mai è così importante per la psicologia parlare di intelligenza artificiale beh in primis perché la psicologia centra tantissimo con l'intelligenza artificiale la modellizzazione dei neuroni arriva proprio dalle scienze cognitive e dai miei colleghi di almeno 50 anni fa solo che chi in quel periodo si occupava di modellizzare le reti neurali non aveva a disposizione dei computer abbastanza potenti per poterle mettere in pratica si ipotizzava la possibilità di poter creare una macchina in grado di imparare col machine learning proprio con la propagazione avanti e indietro dei neuroni o meglio delle reti neurali artificiali ma non si immaginava si potesse arrivare ad una potenza di calcolo tale da poterla creare e oggi ce l'abbiamo tutti quanti a disposizione si chiama chat GPT ed è impressionante per quanto per quanto sia ancora una roba molto molto in nuce però dobbiamo occuparcene è necessario parlarne intanto saluto un po' tutti ciao Claudia ciao Genna finalmente oggi riesco a seguire dal vivo grazie al giro d'Italia che mi ha bloccato a casa ottimo e viva il giro d'Italia allora buongiorno Ciro buongiorno Giulia buongiorno Genna buongiorno a tutti buongiorno Frab col click del batterista da quando è alto lo sente tutta la band eh sì Silvia buongiorno buongiorno Sonia buongiorno Paola beh Ciro che sia un musicista come me chi è un musicista come me e Ciro saprà benissimo che quando si va perfettamente a tempo il click sparisce quando tu sei perfettamente in grado di prevedere che cosa che cosa sta per accadere a click il click ovviamente se sei un batterista ancora di più svanisce perché tu sul click colpisci un qualche oggetto e questo click viene un po' a svanire buongiorno Paola buongiorno Sonia buongiorno a tutti ecco molto bene allora oggi abbiamo iniziato un po' prima per riuscire anche a terminare un po' prima vediamo un po' se riusciamo a chiacchierare buongiorno buongiorno Uraniel come al solito sapete che le nostre live sono dedicate alle vostre domande e risposte e ad una tematica cappello la tematica cappello di oggi è l'intelligenza artificiale come sempre vi ricordo dobbiamo ricordare che Psynel non si regge da nulla ma è sostenuta dai nostri progetti e il progetto che è in tra virgolette in lancio in questi giorni è Brain Restart andate a darvi un'occhiata perché questa sera entro la mezzanotte finirà l'offerta lancio ecco per lanciato l'ultimo messaggio per Brain Restart torniamo a parlare di intelligenza artificiale allora mi piacerebbe prendere alcuni appunti senza diventare completamente viola perché succede che se io apro questa pagina voi mi vedete ah illuminarmi e quindi cercherò di chiapparla magari del mio cellulare vediamo un po' molto molto bene ragazzi vedo che sta andando molto bene la cosa quindi grazie mille sto parlando di Brain Restart allora ok allora allora torniamo torniamo un po' a parlare del perché dobbiamo occuparci di intelligenza artificiale beh in primis perché come stanno dicendo tutte le persone compreso Altman che è uno dei fondatori di Open AI che sono gli sviluppatori di chat GPT è bene trovare un modo per imparare a regolamentare questa tecnologia perché è una tecnologia potenzialmente davvero molto molto potente e per quanto ci sono persone che dicono ma no ma non è vero stiamo tutti quanti delirando secondo me se proprio devo fare una scommessa che può essere anche sbagliatissima invece è molto importante per due motivi beh il primo è che è una tecnologia potenzialmente che ha un impatto sulla società devastante dal punto di vista del lavoro come potete immaginare questo ovviamente non è un tema nostro però lo dobbiamo tenere presente e il secondo motivo intanto chiedo a chi è in chat se voi avete provato chat GPT per caso ragazzi scrivetemelo in chat e e il secondo motivo è perché noi da sempre essendo uomini tecnologici e in caso poi rispiegherò questa mia definizione abbiamo a che fare con la tecnologia e la tecnologia plasma il nostro cervello ragazzi io vi ricordo che noi abbiamo una cosa che si chiama neuroplasticità cioè il nostro cervello tende a ecco ce l'ho sempre qua il mio cervellino il nostro cervello ha questa capacità incredibile di adattarsi in base all'esperienza e di modificarsi in base all'esperienza e sappiamo con certezza che se oggi vi facciamo che se oggi vi facciamo fare una certa attività o vi impediamo di fare una certa attività nel giro di un mese il vostro cervello acquisirà capacità e addirittura struttura in quella direzione o perderà capacità o addirittura struttura in quella direzione cioè se io vi faccio diventare molto bravi nelle abilità visospaziali come nel caso dei tassisti londinesi sapete che questo è uno degli studi più famosi perché i tassisti erano già adulti quindi avevano già superato quella fase nella quale il cervello si sviluppa e vedere che in base alla quantità di ore di taxi guidato in Londra maggiore era l'atrofia o meglio l'ipertrofia dell'ippocampo ha dato una prima svolta a questi studi cioè dimostrando che il nostro cervello è esattamente come un muscolo se lo usi quella parte diventa più forte e più grande se non la usi quella parte diventa più debole e più piccola fino addirittura a perdersi lo sappiamo per le persone che magari hanno fatto un incidente non possono camminare per tre mesi ebbene se una persona non può più camminare per tre mesi rischia seriamente di perdere abilità di deambulazione questo lo sapete tutti quanti dall'esperienza personale ecco detto questo noi sappiamo anche con certezza che il nostro cervello si è evoluto anche con la nostra capacità di creare tecnologia ad esempio la nostra capacità di creare rappresentazioni e successivamente ragionamenti intorno alle rappresentazioni è qualcosa di davvero molto legato il fatto di riuscire a scrivere di poter leggere condividere questa scrittura condividere i contenuti che ci sono all'interno di rappresentazioni condivise ha fatto sì che il nostro cervello divenisse davvero una specie di super laboratorio di crescita neuronale questa cosa lo sappiamo da sempre e dunque qualche tempo fa mi ritrovavo ok ottimo che mi state rispondendo adesso vengo a leggervi qualche tempo fa vi ho raccontato del famoso e quindi la nostra prima di parlare di questa e quindi la nostra evoluzione è direttamente connessa alla tecnologia che abbiamo intorno a noi noi siamo esseri tecnologici smettiamola di parlare male del metodo scientifico della tecnologia il che non significa che tutte le tecnologie sono buone e tutte le scoperte del metodo scientifico siano degne di nota per l'umanità non significa questo ma smettiamola di pensare che esisteva un uomo naturale che in natura era più saggio eccetera questa roba qua è una narrazione fasulla noi esseri umani siamo tecnologici e vorrei dirvi che non solo ci sentiamo attraverso una tecnologia ma le parole stesse che io sto utilizzando in questo momento e che tu stai raccogliendo col tuo cervello sono una dannata tecnologia senza la quale non potremmo neanche comunicarci comunicare tra di noi ok dunque detto ancora una volta questa cosa dato che la tecnologia che ci circonda è in grado di influenzare la neuroplasticità del nostro cervello direi che parlare degli effetti che potrebbe avere qualcosa di così potente a livello mentale come un'intelligenza artificiale in grado di darci idee spunti informazioni eccetera sul mondo credo che sia decisamente decisamente importante anche perché noi non ce ne rendiamo conto ma l'intelligenza artificiale noi ce l'abbiamo già in tasca il nostro smartphone i nostri wearable i nostri oggetti che ci portiamo dietro sono già delle periferiche siamo già dei cyber dei cyborg quindi metà uomini e metà macchine ma lo siamo da sempre da quando abbiamo indossato una maglietta o una pelliccia per evitare di morire dal freddo quella era già una tecnologia ibridata con un essere naturale tutta questa roba qua può sembrare può sembrare tanta filosofia fino a quando magari non ci soffermiamo un secondo ad osservare il documentario famosissimo su alfa go che potete trovare anche gratuitamente su youtube in inglese oppure potete trovarlo anche in italiano se non sbaglio su netflix che cos'è quel documentario il documentario di come uno dei computer di google sia riuscito a battere vari campioni di go go che cos'è un gioco tradizionale se non sbaglio o cinese o coreano che è molto più complesso degli scacchi e a quanto pare sembrava fosse impossibile che una macchina potesse battere un essere umano dato che la creatività è la pietra angolare di questo gioco e invece spoiler guardatevi poi tutto il video spoiler la macchina vince ma non vince soltanto modifica il punto di vista la percezione delle dei campioni che sconfigge gli fa anche un po' di male a questi campioni intanto ringraziamo la vicina di casa che il giovedì mattina decide di usare l'aspirapolvere tutti i giovedì mattina grazie perché poi non è lei poverina ma è la è la signora che le fa le pulizie dovrò ricordarle sembra che gli ho detto signora mi raccomando il martedì che registro puntate e video e il giovedì registro quindi se può non fare casino il martedì c'erano gli operai con il martello pneumatico e oggi con l'aspirapolvere grazie intelligenza artificiale non vedo l'ora che ci sia un robot a fare le pulizie di modo che io possa dirglielo e si ricorderà perfettamente martedì e giovedì ok pausa pausa allora io ci lavoro scrive uraniel con l'intelligenza artificiale va fantastico fatemi mettere gli occhiali che leggiamo meglio perché abbiamo qua un esperto quindi io ci lavoro sono data scientist realizzo modelli di intelligenza artificiale beh fantastico uraniel cioè meglio di chi nessuno meglio di te potrebbe potrebbe rapparlarci di questa cosa 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 quando io ti dico uraniel psicologia intelligenza artificiale dimmi cosa ti viene in mente così almeno abbiamo anche materiale da una persona che lavora sul campo siamo fortunatissimi ragazzi sogna scrive io ho provato a parlare con chat gpt sono rimasta affascinata ma non avendone bisogno per lavoro non la userò tantissimo Ciro scrive ho letto un articolo di Harari sulla stampa in cui lui è molto critico sull'intelligenza artificiale tanto da affermare che il genere umano potrebbe rischiare l'estinzione se ne perdiamo il controllo eh certamente certamente possiamo parlare di Skynet no ragazzi chi è che non ha visto Terminetro chi è che non ha letto Asimov o ha sentito parlare delle leggi della robotica no in un qualche in un qualche modo eh sogna scrive sono ragioniera e il mio lavoro in vent'anni è diventato più facile grazie all'automazione dei processi ora chat gpt ha previsto che in dieci anni il mio lavoro sarà sostituito dalle IA il problema è che andrò in pensione fra vent'anni ansia beh sogna io non credo che che tu possa essere sostituita completamente anche perché come probabilmente già succede adesso cioè allora facciamo un esempio nel tuo lavoro perché tu lo sai molto bene ciao Patrizia tu lo sai molto bene meglio di me io io per carità non lo farei mai perché impazzire anch'io sono ragioniere anch'io potrei farmi potrei provare a compilarmi la mia denuncia dei redditi così come fa mia moglie che è una dipendente statale mia moglie può farlo però come sapete aziende liberi professionisti non possono farlo da soli per legge cioè io anche se fossi capace di farlo non potrei inviare la mia dichiarazione dei redditi a non lo so al ministero della finanza non so neanche chi si invia non so all'agenzia delle entrate ecco perché perché ci sono un po' delle regole regole che sono burocratiche non di possibilità facciamo un altro esempio in teoria lo psicologo e anche il medico noi siamo gli unici che possono fare diagnosi ufficialmente perché perché siamo gli unici che sono capaci di farlo in teoria sì ma non è detto domani arriverà un'intelligenza artificiale anzi c'è già un'intelligenza artificiale dedicata agli aspetti della salute magari un giorno tu parlerai con una persona attiverai questa cosa e questo ti dirà non lo so ha un disturbo borderline ok però tu non puoi comunicare quella non puoi comunicare quell'etichetta a livello ufficiale perché non hai tra virgolette le autorizzazioni questa cosa qui resterà ancora a lungo nelle mani degli esseri umani perché non ci fidiamo di una validazione anche giustamente ragazzi non ci fidiamo di un giudizio validativo chiamiamolo così normativo sulle nostre vite da parte di una macchina per quanto la macchina sia più precisa io vi ripeto se nel futuro ci sarà non lo so un cardiochirurgo ok che salì bravissimo o un computer che mi opera il cuore in caso non avessi bisogno facendo tutti gli scongiuri e so che la macchina funziona bene io sceglierò sempre la macchina perché so che la macchina è più precisa non si stanca non ha bias eccetera eccetera tuttavia se dovessero prendere una decisione di ordine umano tipo ok facciamo questa questa scissura qui gli facciamo perdere questo o quest'altro quindi un'operazione potremmo chiamare etico morale ci sarà sempre bisogno del decisore umano poi che possa diventare pericolosa come dice Rari non è così assurdo come come ipotesi che diventi Skynet che voglia ucciderci tutto e usarci come batterie per ricaricarsi è un po' più difficile ma che diventi pericolosa per per tante cose sì la prima pericolosità è legata alla perdita di funzioni che è una cosa tipica che succede con le tecnologie cioè le tecnologie ci danno modificano il nostro cervello ci migliorano da un lato ma dall'altro lato possono toglierci abilità così come i miei genitori erano dei draghi a fare i calcoli a mente perché avevano a disposizione poche calcolatrici e poi dalla mia generazione in poi non sappiamo fare due più due a mente ok io compreso ok o meglio facciamo molta fatica a fare un calcolo mentale perché perché non ci serve più la calcolatrice è ovunque ce l'ho ce l'ho nell'orologio ce l'ho nel cellulare posso addirittura chiedere direttamente al mio assistente vocale un calcolo e lui me lo fa perfettamente questo calcolo però c'è sempre appunto un bilanciamento tra competenza e tecnologia che qua va curato molto molto bene anche perché perdere la capacità creativa di generare idee è molto pericoloso e dunque bisognerà sapere utilizzare bene questa cosa diciamo che anche un tempo una persona poteva dire ok prova a fare il calcolo a mente e poi controllo con la calcolatrice se è giusto no? siamo d'accordo? prima lo faccio a mente per mantenere la mia mente attiva e poi uso la calcolatrice questo è un ragionamento che si può fare solo però con consapevolezza e solo in taluni contesti perché è chiaro che se la nostra ragioniera Sonia si mette a fare i calcoli a mente ci mette sette anni di più rispetto a farli con la calcolatrice io non facevo i calcoli nemmeno prima della tecnologia scrive Patrizia allora Uraniel che ricordo è un data scientist ci dice Uraniel io immagino tu sia uomo Uraniel però magari potresti essere anche donna con questo facciamo così quindi dimmi tu se sei uomo o donna Uraniel ma forse ora sto facendo una brutta figura io con Uraniel magari ci conosciamo Lia cambierà i lavori scrive più che sostituirli sarà un aiuto ma non avrà mai un'affidabilità tale da sostituire del tutto un essere umano sul lavoro e lavorare senza controllo umano grande è esattamente ciò che vi ho appena raccontato anche secondo me sarà impossibile almeno per ora che vi sia uno shift completo e totale da quel punto di vista tuttavia tuttavia i ragionamenti dobbiamo farli perché perché dobbiamo farli insomma è una cosa è una cosa è una cosa di cui dobbiamo discutere infatti non so se avete sentito ma in alcuni luoghi hanno vietato in alcune scuole in alcune università di utilizzare queste strumentazioni perché realmente ragazzi cioè andare vedete dato che la conoscenza non è immagazzinamento ascoltatemi perché questo secondo me è il punto derimente la conoscenza non è immagazzinamento di dati ma è assemblamento e richiamo di dati in modo creativo cioè ogni volta che tu richiami alla memoria un concetto tu non lo stai pescando dalla tua testa non è qua dentro dentro il tuo cervello quel contenuto ma sono un insieme di dati che tu metti insieme riassembli ogni volta cioè mi stai dicendo Genna che ogni volta che io ricordo una cosa sto riassemblando quella cosa sì in parte sì la stai ricostruendo nella tua testa e questo è il lavoro meraviglioso che fa il nostro cervello ed è il lavoro meraviglioso che ci consente di mantenerlo anche giovane se ad esempio fai le banalissime parole crociate perché le parole crociate possono essere un piccolo brain training perché in realtà quando tu ritorni a cercare quei concetti non li stai pescando nella tua testa ma li stai ricostruendo e tu mi dirai e beh allora beh allora se l'intelligenza artificiale fosse soltanto un grande magazziniere in grado di andare a pescare le informazioni come se le pescasse da una o meglio scusate se la mia mente fosse solo un grande magazziniere allora l'intelligenza artificiale sarebbe non sarebbe altro che un nuovo magazzino per la mia testa più grande e più efficiente e quindi non minerebbe la mia testa ma la espanderebbe giusto se la mia testa fosse un magazzino chat GPT o l'intelligenza artificiale così come può essere una memoria esterna un hard disk è un'espansione della mia memoria ma non è esattamente così perché la nostra mente ricostruisce tutte le volte ed è questo l'esercizio potentissimo che ci consente di avere la memoria la memoria non è propriamente un magazzino e dunque e dunque la intelligenza artificiale quando genera per noi idee alternative rischia di minare seriamente rischia di minare seriamente il nostro modo di ragionare mentre se su google scrivo non so dammi 5 idee per scrivere un romanzo google mi dà 5 topic chat GPT invece mi dà anche già delle svolte alternative che impediscono la mia mente di lavorare però c'è un però il fatto che chat GPT possa guidare o chat GPT o l'intelligenza artificiale possano guidare il mio modo di ricostruire i miei contenuti interiori questo potrebbe diventare un vantaggio perché potrebbe insegnarci un nuovo modo di ragionare un nuovo modo di ragionare che ha più a che vedere con il bottom up cioè con come ragioniamo attraverso la presa dei dati dall'esperienza rispetto a come ragioniamo con i dati che abbiamo già immagazzinato nella testa per quanto non siano realmente immagazzinati come abbiamo detto ok non so se riesco a spiegare questa piccola complessità che fa sì che l'intelligenza artificiale possa diventare qualcosa di molto potente e anche pericoloso a livello di questo bilanciamento competenze e tecnologia e facilitazione competenza facilitazione uraniel sta scrivendo sono donna ok grazie uraniel perdonami per la figuraccia allora manca ancora scrive manca ancora regolamentazione purtroppo ma soprattutto manca la capacità di farne un uso critico senza affidarsi alle risposte dei modelli di linguaggio come fossero verità assoluta io sto insegnando agli insegnanti come aiutare gli alunni a farne un uso corretto usando ad esempio dei giochi di ruolo tipo simulare conversazioni con personaggi di varie epoche è una figata uraniel io l'altro giorno l'ho chiesto immagina di essere freud e gli ho fatto alcune domande ed è davvero una figata tra l'altro questa è incredibile l'intelligenza artificiale è talmente figa che riesce a giocare a far finta di che è una roba ragazzi che è una roba che merita tantissimo perché fare finta di fa parte di tutta l'attività umana fa parte dell'attività principale che ci consente di allenarci che è il gioco il gioco è tutto un fare finta di un fare come se ma un fare finta di è anche ciò che facciamo quando costruiamo delle realtà fittizie come della società delle aziende un linguaggio un club all'interno del quale ci sono dei termini specifici eccetera facciamo sempre come se tra virgolette il fatto che l'intelligenza artificiale riesca a mimare questa cosa è davvero impressionante cioè mima un come se cioè voi potete andare come dice ora giustamente su c'è GPT e dirgli vorrei ora ti farò delle domande però vorrei che tu mi rispondessi come se fossi Shakespeare e lei e lei ti risponde come se fosse Shakespeare ed è francamente impressionante ed interessantissimo allora innanzitutto allora mi piacerebbe però leggervi che cosa mi ha detto c'è GPT però che faccio qua faccio prima a fare così intanto guardiamo un po' oh grande bene 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 il mio tirocinante mi scrive una cosa molto saggia bene 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 sono molto contento anche se volevo essere io a scrivere quella cosa lì ma non ci sono riuscito allora vediamo un po' se riesco a scusate adesso divento viola per un secondo perché voglio fare una foto perché così almeno ve la posso leggere perché altrimenti non ce la faccio a leggere ce la faccio così vai dai più o meno allora mentre sono un po' bianco ho chiesto a chat GPT prima parlami dei collegamenti tra psicologia e intelligenza artificiale e lui mi ha scritto o lei o l i collegamenti tra aspetta questo ve lo posso leggere anche così non sono viola ok e torno di qua Luca scrive secondo me ci facciamo confondere anche dal termine intelligente e intrinsecamente intelligente chi scrive l'algoritmo di chat GPT ma chat GPT è e rimane il nostro algoritmo oh ma certamente non stiamo parlando di non stiamo definendo l'intelligenza Luca non stiamo definendo l'intelligenza in nessun modo stiamo parlando degli effetti delle interazioni tra la nostra psiche e l'intelligenza artificiale o chat GPT se non vuoi chiamarla intelligenza perché intelligenza è una definizione troppo troppo ampia per tanti motivi eh per tanti motivi perché non lo sappiamo neanche bene noi che la studiamo da secoli che cosa sia l'intelligenza quindi sono pienamente d'accordo allora 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 ho chiesto a chat GPT questa roba e lei mi ha risposto i collegamenti tra intelligenza artificiale e la psicologia sono sempre più rilevanti e stanno guadagnando sempre più attenzione da parte degli esperti di entrambi i campi l'intelligenza artificiale è la disciplina che mira a creare sistemi e macchine in grado di svolgere attività che richiedono intelligenza umana di nuovo qua come scrive giustamente Luca che è por di intelligenza umana d'altra parte la psicologia studia il comportamento umano i processi mentali e le interazioni sociali queste due aree di studio si intersecano in vari modi e ci dà cinque modalità di intersecamento di intersezione così direbbe ora la prima cosa è che mi sarei aspettato che tu cara chat GPT mi dicessi sì perché i modelli delle reti neurali sono stati inventati dagli psicologi che si sono messi lì con carta e penna a immaginare la possibilità di creare le prime reti neurali che funzionano mimando mimando il neurone mimandolo perché il neurone non funziona in questo modo ma essenzialmente cercando di mimare l'esperienza e guardate che questa cosa qui dal punto di vista psicologico è una potenza incredibile il fatto che diventi più efficace quando può tra virgolette ricostruire il funzionamento di qualcosa ripartendo dal basso è qualcosa di incredibile qualcosa di molto vicino all'intelligenza Luca però dire che intelligente è diverso poi intelligente cosa vuol dire vuol dire anche dotato di volontà oppure no una pianta per fare un esempio è intelligente per quanto mi riguarda sì una pianta è intelligente perché riesce a leggere intelligere efficacemente il proprio habitat per poter per potersi adattare non so se sapete che le piante è stato scoperto che addirittura riescono a prevedere in quale direzione crescere in base a nutrienti o sostanze tossiche che possono trovarsi di fronte cioè se noi prendiamo una pianta e qua ci mettiamo delle sostanze tossiche a destra e a sinistra delle sostanze buone la pianta anche se non ha occhi o organi sensoriali per vedere da che parte sono queste sostanze anche se queste sostanze sono molto distanti tanto da non poter essere percepite in teoria con altri diciamo così recettori della pianta la pianta sa bene in che direzione muoversi e questa è una sorta di intelligenza così come lo è una sorta di intelligenza per tutti gli organi per tutti gli organismi dal più piccolo al più semplice al più complesso la sensazione che noi chiamiamo di allontanamento avvicinamento shudas te o shudago questa sensazione è una forma di intelligenza perché consente a quell'essere di andare via dalle cose che potrebbero fargli male e avvicinarsi alle cose che potrebbero fargli bene quindi potremmo definirla anche in questo modo qui quindi l'intelligenza come lo intendiamo noi sempre seguendo il ragionamento di Luca che è molto interessante ha a che fare con una volontarietà con una volontà indipendente no Luca è un po' questo mi stupirei se già GPT avesse come una volontà indipendente invece questo grazie a Dio non ce l'ha perché allora è lì che poi si svolgono tutte le cose perché noi proiettiamo dato che siamo noi a costruire la macchina proiettiamo nella macchina i nostri bias le nostre desideri di volontà e da lì apreti cielo con il desiderio di di controllo e finiamo in un futuro distopico fatto di macchine che ci controllano ma sapete che l'ho fotografato davvero male quindi non posso leggerlo vabbè un pezzo sì allora loro dicono che comunque l'intersezione tra psicologia e intelligenza artificiale consta secondo chat GPT in cinque punti nei modelli cognitivi che sono comuni nell'interazione uomo macchina nella psicologia dei dati sono data scientist tu per un regnale nell'etica e nella responsabilità e nella psicologia dell'intelligenza artificiale andiamo a questi ultimi due che mi sembrano i più interessanti i primi teglio letti nell'introduzione del podcast guarda se ci sono ok allora etica e responsabilità l'intelligenza artificiale solleva importanti questioni etiche e sociali gli psicologi possono contribuire a identificare gli impatti psicologici dell'intelligenza artificiale sulla società come l'effetto sull'occupazione ok ne abbiamo parlato anche prima cioè sul lavoro la privacy l'autonomia e il benessere psicologico possono anche studiare gli effetti delle interazioni con sistemi di intelligenza artificiale sulla psicologia umana inclusi gli aspetti emotivi l'empatia la fiducia e il rischio di dipendenza è molto interessante questa parte qua psicologia inclusi degli aspetti emotivi e riguarda un po' quello che stiamo dicendo il fatto di come potrebbe cambiarci e infine il quinto punto di intersezione tra psicologia e intelligenza artificiale suggerito da chat GPT è la psicologia dell'intelligenza artificiale infine c'è un campo emergente chiamato psicologia dell'intelligenza artificiale che si occupa dello studio delle percezioni delle aspettative delle reazioni delle persone nei confronti dei sistemi intelligenti sempre intelligenti con tante 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 virgolette questo campo cerca di comprendere come le persone interpretano e si relazionano con l'intelligenza artificiale e come quest'ultima può essere progettata per adattarsi alle preferenze e alle necessità umane figo tutto questo lo racconta lei lo racconto io lo racconta lei ragazzi come vi dicevo oggi abbiamo iniziato molto prima quindi la live finirà un po' prima tipo un quarto d'ora prima quindi abbiamo ancora 15 minuti circa vi ricordo che entro stasera a mezzanotte finisce la nostra promozione di Brain Restart che ieri nella live bellissima insieme al mio socio Mark Zamboni e Valero Rosso Mark ha detto una cosa sacrosanta delle volte voi vedete che le offerte e poi torno dopo il marchettone torno a rispondere a vostre domande voi vedete che le offerte solitamente sono gigantesche tipo questa chitarra costerebbe 7000 euro ma per oggi ce l'hai a 125 euro no? quindi delle offerte così noi non vogliamo fare quella roba lì perché ci sembra davvero ridicola ok? noi sappiamo che il nostro corso vale tantissimo ma non ti mettiamo lì la cifra vale varrebbe 15.000 euro ma per fino a questa sera vale 20 euro no noi però facciamo uno sconto perché ci teniamo a premiare gli early adopter che sono persone che non solo stimano il nostro lavoro perché lo fanno solitamente con tutti i nostri prodotti ma perché chi prima arriva meglio alloggia nel senso che solitamente noi facciamo sì che che il corso diventi sempre più bello che si aggiorni e quindi anno dopo anno il corso viene aggiornato e di solito può acquisire e di solito lo farà ve lo assicuro acquisirà prezzo oltre che valore intrinseco di per sé e quindi chi acquista oggi avrà tutti gli aggiornamenti per tutta la vita gratuitamente quindi se non avete ancora fatto approfittatevene anche se siete stati tantissimi quindi io vi ringrazio tantissimo Gennaro sei davvero una bella persona grazie per quello che fai grazie Domenico poi subito dopo il marchettone mi sento come un po' un po' sporco dopo non è facile ragazzi non è facile non è facile in questo mondo in questo mondo di guai ragazzi proprio ieri ne parlavo con un proprio ieri stavo guardando un video di Dorotea Bio proprio qualche giorno fa stavo guardando un video di Mr. Rip che mi piace tanto tra l'altro mi ha anche citato in quel video Mr. Rip invitami invitami che ne parliamo e Mr. Rip che si occupa di un sacco di robe raccontava di una cosa diceva scherzando però scherzando diceva no ma che facciamo ci mettiamo mica a fare i corsi online che sono robe da truffatori purtroppo è ancora così la gente percepisce perché perché è vero che in giro ci sono un sacco di personaggi che si inventano i corsi così come ci sono un sacco di scrittori finti ne abbiamo parlato che praticamente vedono che c'è un campo bello non so la meditazione scaricano tutto il materiale possibile vanno su chat gpt scrivimi l'introduzione di un corso fanno un corso perché sanno che possono guadagnare qualche soldino e questo succede tuttavia io non ci vedo niente di male nell'impacchettare una conoscenza professionale vera come quella che offriamo qui su Psi nel danni ma anche come quella che abbiamo costruito io e Valerio che realmente lavoriamo con le persone da decenni e impacchettarla a pagamento per le persone che possono permetterselo ok quindi non credo che ci sia una del liceo coach Mario Furlan ciao Dorotea cosa ne pensa buongiorno cosa ne pensa del liceo coach c'è un liceo coach Dorotea spiegati allora io so chi è Mario Furlan perché so che è amico di un mio amico amico dello Zioac con cui ho chiacchierato tante volte che è stato anche una delle prime persone che ha parlato di crescita personale in Italia e quindi so che lui è uno tra l'altro uno dei fondatori di City of Angels di tipo City of Angels Angels of City tipo un un gruppo di è un gruppo di come potremmo chiamare è un gruppo di persone che fanno volontariato quindi solo per questo volontariato in giro per Milano aiutando i senza tetto eccetera per questo tutta la mia stima ah life coach ok allora io però non lo conosco e quindi non te lo so dire Dorotea com'è io non lo conosco a me i life coach mediamente non piacciono soprattutto con questa dicitura ma non credo che lui si promuova chiamandosi tale sappiate che per me il coaching è qualcosa che riguarda competenze specifiche altrimenti è la psicologia rubata agli psicologi cioè spiego meglio che cosa penso sia il coaching il coaching è un aiuto dato da una persona che è altamente competente in un determinato ambito io ho fatto il produttore musicale per 20 anni su suonare 5 strumenti posso fare il coaching di star che vanno sul palco perché sono stato sul palco so che significa stare sul palco conosco quella cosa lì eccetera io ho fatto il manager in una grande multinazionale ho insegnato ho ottenuto corsi di formazione per anni su il campo del management del business e allora posso aiutare una piccola azienda a crescere o un piccolo imprenditore a migliorarsi attraverso il mio business coaching io ho fatto lo sportivo per anni oppure ho studiato scienze della come si dice scienze sportive sono un fisiologo eccetera oppure sono uno sportivo ad alto livello che per anni ha fatto lo sportivo ho ottenuto grandi risultati posso fare il coach sportivo io faccio sempre l'esempio della mia amica Tatiana Garbin che non si definisce coach sportiva ma domani che è l'allenatrice della federazione italiana tennis che domani potrebbe fare la coach sportiva con tutti i titoli del mondo quindi hai una competenza reale acquisita sul campo e poi dopo la insegni questa competenza magari anche con attraverso strumenti psicologici ma temi come life coach e mental coach che riguardano non lo so il raggiungere gli obiettivi il gestire le emozioni questa roba è roba della psicologia tu mi dirai ma il gestire ma raggiungere gli obiettivi no eh no dipende perché se vuoi raggiungere gli obiettivi nello sport nel business eccetera ci sono gli altri coach ok se invece tu vuoi raggiungere un obiettivo personale che tipo di obiettivo personale può essere se non di emozioni motivazione stile di vita gestione dei pensieri concentrazione tutta roba della psicologia che fanno meglio gli psicologi anche perché vi ricordo che il 99,9% degli strumenti che funzionano nel coaching sono strumenti della psicologia e tutti quelli che non sono della psicologia significa che non hanno dietro delle ricerche e quindi dovreste diffidarne ok lanciata l'ennesima lancia in questo senso ripeto quindi non c'è niente di male se tu sei un super esperto in un ambito a diventare non coach Uraniel potrebbe diventare coach dell'intelligenza artificiale o insegnare come dice insegna insegna agli alunni questa cosa se domani Uraniel vuole fare la coach dell'intelligenza artificiale ti insegno come interagire con l'intelligenza artificiale può farlo perché ha un'esperienza reale sul campo data scientist ok se invece io domani leggo che è una moda l'intelligenza artificiale ho letto due libri di coaching voglio fare il coaching di intensità no non funziona così ecco scusate ma questa roba io ce tengo tantissimo fatemi sapere cosa ne pensate voi che mi state o voi che mi state ascoltando da vicino e da lontano per questa faccenda che spesso mi muove l'animo intanto andiamo a salutare da questa parte io sono una bestia buongiorno nicolas sono in autostrada e ti ascolto molto volentieri ma che bello buona guida mi raccomando nicolas attenzione alla strada buongiorno ceci buongiorno a tutti anna maria buongiorno nicolas provato c'è di gpt lo uso spessissimo ottimo ecco spero non al volante nicolas ma come tu riesci a commentare ah bello ora Neil dice che tanto tra l'altro per adesso insegna gratis proprio come fanno tutti i coach è volontariato ma è giusto che chi ha determinate competenze si faccia pagare per insegnare agli altri giustissimo allora andiamo a vedere Rita scrive salve salve Rita abbiamo l'ultima domanda ragazzi perché poi direi che per un quarto ci saluteremo più o meno qualcuno potrebbe spiegarmi la differenza tra rilassamento e meditazione non l'ho ancora capita allora Rita oltre al fatto che ci sono due o tre puntate di psine su questo tema la differenza è semplice il rilassamento o meglio allora le differenze sono qua ci sono qui sarebbe da fare un discorso gigantesco Rita ok quindi provo a farlo nel modo più semplice possibile per poterti rilassare nella maggior parte dei casi si utilizzano tecniche di immaginazione dove immagini non so un luogo rilassante oppure immagini che il tuo corpo si rilassi chiedi al tuo corpo di rilassarsi e quindi stai suggestionando te stessa al punto tale che se ti faccio un esempio se tu adesso ti chiedo se ti chiedessi di chiudere gli occhi e di immaginare qualcosa di profondamente rilassante come una spiaggia la montagna se ti piacciono la spiaggia poi più dettagli senti mentre io ti parlo di questa cosa vedi i colori del mare la sensazione della spiaggia sotto i piedi quando non è troppo calda ma quel tepore e senti quel profumo tipico dello iodio che si mescola al profumo delle creme solari lì intorno ecco più tu sei dentro a quella scena nel rilassamento e meno sei nel presente al punto tale al punto tale Rita che se io batto le mani con forza mentre tu sei dentro questa scena con gli occhi chiusi tu fai trasali con forza la meditazione non è questo la meditazione è il contrario è restare attaccata al tuo senso di realtà attraverso l'osservazione di qualcosa che è qui nel presente come ad esempio le sensazioni corporee o l'aria che entra e che esce dal tuo corpo è diversissimo mentre nel rilassamento più ti dissoci e più ti rilassi detto male malissimo non è proprio così andate a ascoltare le puntate più nel rilassamento più ti dissoci più ti rilassi più immagini vividamente la spiaggia i colori i profumi e più ti rilassi nella meditazione è proprio il contrario e mi devo accorgere di quando la mia mente finisce sulla spiaggia e tornare nelle sensazioni del presente quindi il rilassamento e questa forma di immaginazione è iper piacevole e bella da fare ha dei risultati ma non sono quelli che ti dà l'altro esercizio perché è come dire una cosa è se tu fai 5 km a piedi tutti i giorni camminando lentamente e con piacevolezza mentre parli con un amico no facciamo 2 km perché 5 sono tanti a piedi tutti i giorni parlando con un tuo amico mentre mangi un gelato un'altra cosa è se fai non lo so 7-8 km di corsa tutti i giorni cronometrandoti la prima certo che è una passeggiata certo che ti terrà un po' in forma certo che ti rilasserà certo che ti fa bene ma non ha gli effetti sul fisico della corsa regolare la seconda è decisamente più noiosa la devi fare da sola e più devi necessita uno sforzo molto più grande ma gli effetti nel lungo termine sono enormi quindi non dobbiamo smetterla di fare le passeggiate con gli amici se ci piace rilassarci possiamo rilassarci però se vogliamo ottenere i veri risultati della meditazione quelli che tutti sbandierano dicendo oh ma ti piacerebbe avere il cervello così ti piacerebbe essere più concentrato lo stress eccetera è la meditazione quella noiosa e difficile che ti dà i risultati non il rilassamento oh fantastica Rita che dice che sono stato chiaro grazie Rita Luca scrive nel caso dei fuffa coach fa ridere pensare che la sindrome dell'impostore in quel caso non è una sindrome beh non tutte Luca non tutte le sindrome sono consapevoli quindi anzi direi che le sindrome peggiori non sono consapevoli le sindrome peggiori in psicologia in psicopatologia si dico che sono egosintoniche nel senso che sono così sintonizzate con il mio essere che non mi danno fastidio anzi mi piacciono e quindi mi aiutano Patrizia scrive dipende sempre dall'esperienza che abbiamo e su cosa abbiamo investito corsi studi e poi dalla nostra umiltà non posso insegnare ciò che non so posso insegnare quello che conosco bene quello che succede Patrizia spesso scusate quello che succede spesso è che le persone che i coach non sono cattivi sono solo entusiasti sono persone che leggono un libro dicono wow ma questa roba è fighissima ma io vorrei insegnarla e invece di passare dalla scuola che gli consentirebbe di insegnare quella roba la insegnano direttamente l'ho detto una volta è il problema della formazione in Italia che la maggior parte o meglio dei divulgatori in Italia è che la maggior parte dei divulgatori non sa quello che divulga c'è gente che parla di non lo so di politica e la politica poi è un campo però ci sono ci sono ragazzi che parlano del mio mestiere che parlano delle mie cose perché sono entusiasti magari marketer c'è persone che si occupano di marketing lo studio di marketing hanno un bel canale ci spiego le cinque tecniche per persuadere qualsiasi persona con le tecniche di marketing ma si vede è evidente che non le hanno capite e fanno dei paradossi che a me fanno intorcigliare il cervello mi fanno ridere mi fanno intorcigliare il cervello dico ma davvero non ti sei accorto che hai appena detto una cosa e il contrario di ciò che hai appena detto non te ne sei accorto perché tu quella cosa non l'hai studiata davvero l'hai letta su un libro e la stai raccontando vabbè Patrizia dice mio figlio usa molto chat GPT non so se si scrive così glielo chiedo perdono figurati Patrizia per velocizzare le ricerche universitarie non metto becco in quello che fa ma mi fido del suo buon senso esatto se c'è un buon senso alla base chat GPT può sicuramente essere molto molto utile allora signore e signore ragazzi e ragazze abbiamo fatto una ottima chiacchierata che hai trovato vediamo un po' facciamo una bella chiacchierata e adesso ah giusto è vero è vero è vero però la nostra bella chiacchierata intanto molto bene molto bene che bello che bello direi che abbiamo abbiamo una bellissima puntata domenica domenico c'era una puntata che si chiama la mente è davvero l'ultima a sapere avete mai sentito la frase la mente l'ultima a sapere lo dicono spesso quelli che fanno tecniche yogiche tecniche di meditazione no perché ti devi affidare all'istinto all'inconscio torneremo a parlare di questa affascinante materia vedendo che cos'è la mente che cos'è come funziona la mente eccetera eccetera ci faremo un sacco di risate proprio vedrete un esempio tipico di come le persone non comprendono perfettamente ciò che insegnano ecco la prossima volta che vedrete qualcuno che dice perché la mente è sempre l'ultima a sapere per questo bla 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 sapete che non sa molto bene di che cosa sta parlando ma lo saprete solo ascoltando la puntata 482 non mi ricordo la prossima puntata del podcast dopo questa dopo questa qua dopo questa nostra live e che dire ragazzi approfittate se non l'avete ancora fatto brain restart fino alla mezzanotte di questa sera sarà in sconto è un percorso bellissimo insomma non vedo l'ora che lo vediate ci raccontiate ci portiate i vostri feedback esatto no io sono quello bellissimo ok di Guzzanti la risposta è dentro di te ed è quella ed è sbagliata prossima volta devo chiedere qualcosa su emozioni principali trigger mi ricordo ok Ciro Genna vogliamo anche noi la tazza e le felpe di psine scrive Giulia grazie per la bellissima live buona giornata a tutti grazie a te Giulia grazie mille farò in modo di farò un modo farò un evento nel quale vi regalerò tazze e magliette perché adesso però non c'è alcun non c'è alcun non c'è alcun business non c'è alcun merchandising dietro questo se volete c'è brain restart andate a dargli un'occhiata buona giornata a tutti ciao molto bene ragazzi eravamo un po' pochini questa mattina tipo non visto massimo picco di 30 persone ma che volete io scelgo l'orario che è comodo a me è brutto è brutto dire che scelgo l'orario che è comodo a me ma è così insomma è l'unico momento in cui posso fare questa cosa insomma come ho già accennato oggi parliamo di un sacco di cose oggi scusate questa sera ci sarà si terminerà la la nostra la nostra offerta e soprattutto e soprattutto continueremo a fare questi queste discussioni anche in altre puntate e ci tengo in caso tu mi stessi ascoltando sapere la tua opinione sull'intelligenza artificiale perché ovviamente tutto ciò che ho raccontato oggi sono tutte elocubrazioni sono tutte ipotesi tutta speculazione perché fin quando l'intelligenza artificiale non entrerà pienamente all'interno della nostra vita ecco sarà sempre sarà sempre più complessa questa cosa Dorotea scrive una cosa interessante e sacrosanta sulla chat di youtube andate a vederla perché io non voglio attirarmi tutte le inimicizie del mondo ragazzi però perché l'ho già fatto voi lo sapete che ho scritto fuffa coach uno due tre la vendetta sappiate che io sono l'uomo meno l'uomo meno chiamato dagli eventi di coaching in Italia nonostante parli di coaching da quando è nato perché io c'ero quando è nato io c'ero e ho visto tutto ho visto tutto il suo percorso e quindi andate a vedere cosa scrive Dorotea bene cari psinellini che dire io vi ringrazio ancora per tutto l'affetto che ci state dimostrando in questi giorni Brain Restart in offerta noi ci vediamo o meglio ci sentiamo domenica alle 18 con la puntata La Mente è davvero l'ultima a sapere buona giornata a tutti Grazie